È un appuntamento che è ormai fisso, diciamo, accanto, vicino alla Notte di San Lorenzo, che si ripete quest'anno per la terza edizione, un'iniziativa che ha lo scopo di valorizzare il borgo storico e al tempo stesso sostenere quelle che sono le attività economiche che appunto vi insistono all'interno del borgo, che prende spunto dal cielo e dal manto stellato, quindi saremo lì tutti con il naso all'insù, lo sguardo rivolto verso il cielo, ma per godere poi della nostra buona tavola, dell'enogastronomia, della nostra tradizionalità, con tanti intrattenimenti e concerti musicali che saranno direttamente proposti nei locali e quest'anno, oltre ad essere confermata la collaborazione con il Museo del Bali, perché ai partecipanti di Stelle d'Argento sarà riservato un biglietto ridotto e convenzionato proprio per godere dell'osservatorio, del planetario, delle tante altre attività che il Museo del Bali, che ricordiamo insomma essere lì praticamente attaccato al borgo storico di Cartoceto. Una piccola novità di quest'anno sarà l'autoraduno con oltre 50 auto d'epoca proposte dal club Lucio Ricci di Fanno, e quindi insomma un appuntamento sicuramente ottimo, atteso, che valorizza il borgo storico, come dicevo, e che sostiene anche le attività economiche. Credo che di questi tempi ce ne sia davvero bisogno. Questa è un'estate per tutte le Marche di importante ripartenza turistica. Stelle d'Argento a Cartoceto si inserisce dopo alcuni eventi importanti che hanno caratterizzato la vostra estate, ma poi ce ne saranno altri. Siamo partiti, siamo finalmente riusciti a tradurre nel concreto un progetto che voleva esportare la nostra DOP, che ricordiamo di essere l'unica dopo le aree di tutta la regione Marche, anche coinvolgendo gli altri territori dei comuni che fanno parte dello stesso areale della DOP Cartoceto, vale a dire Fanno, Colli al Metauro e Monbaroccio. Ci siamo riusciti con l'evento conterranea, questo tour itinerante non soltanto di valorizzazione dell'olio della DOP, non soltanto di valorizzazione delle nostre eccellenze inogastronomiche, ma anche di esaltazione di quelli che sono un po' gli asset e i percorsi turistici principali che caratterizzano questi territori della bassa vallata del Metauro. L'abbiamo fatto con tre cene spettacolo che si sono concluse lo scorso 9 luglio. Poi abbiamo avviato quest'anno un progetto nuovo invece, Parchi d'Estate, dopo tanti anni di Music Square, che ha un po' concentrato delle serate di ottime, di grande musica live nella piazza principale di Lucrezia, in piazza Giovanni Paolo II. Quest'anno abbiamo deciso di tradurre quel tipo, di farla evolvere, quel tipo di manifestazione coinvolgendo e interessando un po' tutti i parchi della nostra frazione, della frazione di Lucrezia. Fortunatamente abbiamo a disposizione davvero tanti di questi luoghi di socialità, di aggregazione. Trovavamo corretto, ripeto, interessarli anche per più target, perché quelle che sono le iniziative contenute all'interno di Parchi d'Estate, che è iniziato lo scorso 22 luglio e si concluderà il prossimo 10 di settembre, tutti i venerdì, quindi l'ultimo venerdì sarà il 9 di settembre, poi più sabato 10, saranno previste, dicevo, tutta una serie di attività che vanno dalla musica al teatro, alla comicità, agli spettacoli per i bambini, quindi anche diversi e tanti target interessati. E poi ovviamente ce ne saranno anche altri progetti. E poi Marche Storie. Sì, Marche Storie invece che interesserà non più la frazione, ma ci spostiamo di nuovo nel capoluogo. Questo è il secondo anno che partecipiamo come comune a questa opportunità che la Regione Marche offre, volendo valorizzare un po' l'identità, la storia e anche gli aneddoti di tutti i borghi storici. Quest'anno abbiamo partecipato con un nuovo progetto che parte un po' dal legame storico che vi è tra il Borgo Storico di Cartoceto e la città di Venezia, sicuramente molto impari come lotta e molto diversa come caratterizzazione, ovviamente sotto tanti punti di vista, ma il territorio di Cartoceto sin dall'epoca alto medievale era uno dei principali fornitori della Serenissima di Olio, con cui appunto la città di Venezia illuminava le stanze del Doge e anche Piazza San Marco. Poi ovviamente si è evoluto il tutto, oggi non parliamo più di quel tipo di utilizzo, ma parliamo dell'unica DOP olearia della Regione Marche, come dicevo prima, però su questo aneddoto ci abbiamo costruito un progetto su questo rapporto storico con la città di Venezia e sarà un po' l'oggetto principale dello spettacolo appunto di Marche Storie dal prossimo 16 al 18 di settembre a Cartoceto, oltre ovviamente a tante attività a corollario che arricchiranno ulteriormente il progetto di Marche Storie. Tra l'altro concludiamo poi l'estate invece con Triunfo Gourmet, che è un ulteriore progetto che riusciremo a realizzare grazie anche qui alla compartecipazione della Regione Marche, uno straordinario tour di tre serate, di cene gourmet appunto, ma all'interno del Teatro del Trionfo, ecco perché Triunfo du Gourmet, uno, forse se non il solo, teatro con questa unicità di tutta la Regione Marche, ne abbiamo tanti e davvero ne abbiamo di meravigliosi, l'unicità e l'esclusività del Teatro del Trionfo di Cartoceto è che all'interno di questo stabile che sin dal 1700 era dedicato alla spremitura delle olive, quindi a Frantoio, oggi conserva soltanto il corpo ligno centrale e quindi in questa sua particolarità e per questa sua particolarità abbiamo anche deciso di organizzare queste serate, ottobre, dicembre e gennaio appunto all'interno del Teatro del Trionfo e anche queste saranno sicuramente agliettate da intrattenimenti musicali di grande qualità. Chiudo dicendo che in mezzo a tutta questa carrellata non dimentichiamoci ovviamente nelle prime due domeniche di novembre il festival Cartoceto DOP.